Requisiti di accesso al corso Lo scopo del corso Scuba Rescue Diver PSS, è quello di insegnare le tecniche di soccorso legate all'attività subacquea. Per accedere al corso è quindi necessario possedere il brevetto Advanced Open Water Diver PSS, o titolo equivalente. In molte emergenze subacquee, potrebbe essere necessario applicare anche tecniche di primo soccorso o di rianimazione cardiopolmonare. Per questo motivo è necessario possedere anche il brevetto First Aid CPR, PSS in corso di validità, o a giudizio dell'istruttore, un titolo equivalente, rilasciato negli ultimi due anni. Se possedete un titolo equivalente, ma emesso prima degli ultimi due anni, dovrete frequentare un programma PSS di aggiornamento, al termine del quale vi sarà rilasciato il brevetto First Aid CPR, PSS, in corso di validità. Se non possedete il brevetto First Aid CPR, PSS, o il titolo equivalente, potete comunque iniziare a frequentare il corso Scuba Rescue Diver PSS, ma prima di procedere oltre il modulo 5, dovrete avere terminato l'addestramento First Aid CPR, che può essere svolto parallelamente al corso Scuba Rescue Diver.